Il lupo è sempre il lupo, anche delle favole. Noi nella quarta generazione, la mia famiglia che fa il pastore, che fa sto lavoro, è una cosa dentro che non tutti la capisce. Secondo me l'unica soluzione è tornare alla terra, e che dico sempre teni duro perché è la terra che lo tiene il pello. Star fuori sempre, a contatto con gli animali, tutta un'altra tranquillità, tutto un altro modo di vivere. Capita che ogni tanto magari, non so, si fa anche qualcosa con gli amici, però a me piace di più star qua. Questi ragazzi avrebbero tutti delle altre scelte, ma lo fanno per vocazione. A dire la verità del misterio di Gatti, non c'è nessuno, perché non c'è nessuno. Perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno. C'è nessuno, perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno. C'è nessuno, perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno, perché non c'è nessuno. Grazie. Grazie.